Kate Winsley, non mi peso da 12 anni o dimenticherei di divertirmi Considerata una delle attrici più famose e talentuose di Hollywood, Kate Winsley è un'icona di grazia e raffinatezza. Amica del cuore di Leonardo DiCaprio, la Winsley ha raggiunto un successo internazionale, prendendo parte ad alcune delle pellicole più celebri mai girate, come Titanic. La splendida attrice ha rivelato di non pesarsi da oltre 12 anni per evitare di dimenticare il divertimento e la leggerezza della vita, ecco che cosa ha detto. . Addio bilancia, la rivelazione di Kate Winsley. Capelli color oro e occhi grandi, Kate Winsley ha la bellezza delle dive da altri tempi e il suo fascino ha conquistato milioni di fan e di registi. . Nonostante il suo innegabile carisma, in passato l'attrice ha vissuto alcune difficoltà legate al suo aspetto fisico, le sue forme armoniose e morbide l'hanno fatta sentire diversa, lontana dai canoni estetici della magrezza a tutti i costi spesso sbandierati ad Hollywood. . Dopo numerose diete, la Winsley ha trovato la tanta desiderata serenità, accettando il suo corpo ed imparando ad amarlo esattamente com'è. . . Per questo motivo, come ha dichiarato in passato ad Harper's Bazaar, ha deciso di dire addio alla bilancia e da circa 12 anni ha smesso di pesarsi. . Kate infatti ha capito che la sua priorità è vivere con tranquillità e libertà, mangiando ciò che la fa stare in salute, senza doversi preoccupare costantemente del lago della bilancia. . . Nessuna costrizione ferrea e nessuno stereotipo, la bellezza femminile dipende da persona a persona e non ha senso fingere di essere diversi da ciò che si è. . . Le sue forme morbide e armoniose non l'hanno affatto fermata e oggi Kate Winsley è una delle attrici più di successo a livello internazionale, esibendo una bellezza elegante che ha stregato gli uomini di tutto il mondo. . Kate e la sua vita da star. Carismatica e camaleontica, Kate Winsley ha dimostrato a tutti come si possa essere attrici eccezionali senza indossare obbligatoriamente una taglia 40. . . Ad Hollywood sono tantissimi i colleghi che la stimano, in primis l'inseparabile Leonardo Di Caprio, e l'attrice è a tutti gli effetti un'icona di eleganza a cui guardare con ammirazione. . Scelta da molti registi per partecipare alle loro pellicole, la Winsley ha deciso comunque di non rinunciare ad avere una vita privata, la star Infazzi si è sposata ben tre volte ed è diventata mamma di tre splendidi bambini. . . Gran parte dei fan ha sempre sperato in un lieto fine tra lei e Di Caprio, ma i due, in numerose occasioni, hanno rivelato di essere solo amici e di non aver mai intrapreso alcun tipo di relazione sentimentale. . . Kate ha sempre dimostrato di saper coniugare alla perfezione il suo essere madre-donna in carriera, costruendo un rapporto stupendo con i suoi figli, senza mai rinunciare alla sua amica. . . Icona di eleganza, la Winsley ha sempre parlato pubblicamente del rapporto con la sua fisicità, cercando di esortare tutte le donne ad essere soddisfatte di se stesse, al di là degli stereotipi femminili imposti dalla società. . . Una donna coraggiosa, capace di mettersi in prima linea per difendere ciò in cui crede, Kate Winsley è un esempio da ammirare per tutti. . . . .